La prestazione La prestazione Quest'anno invece come abbiamo detto a Spezia c'erano 5 giocatori che venivano, 4 giocatori che venivano dalla Lega Pro, altro giocatore che veniva dalla primavera, altri giocatori che non giocavano nella propria squadra l'anno prima quindi erano in tanti. Adesso piano piano il gruppo sta crescendo, è normale che i vecchi, anche se non hanno lavorato con noi l'anno scorso ma bensì due o tre anni fa come Camillo, come lo stesso Maiello, stanno aiutando alla crescita i nuovi. Una squadra che ha sicuramente una propria identità e sanno quello che fanno. Per quanto riguarda noi sappiamo che affrontiamo una gara difficile ma non una impossibile. Noi sappiamo che dobbiamo cercare di fare risultato per dare continuità e consapevolezza nei propri mezzi, quindi questo è l'aspetto fondamentale. Noi abbiamo dimostrato di giocarci tutte le partite allo stesso modo, cercando di portare a casa sempre i tre punti anche nello stesso modo fuori casa.